Meldola www.conadfo.it o contattaci al numero 0543 801 11 Torna a Bella Coppia il concorso per idee cooperative promosso da Lega Copp Forlì Cesena che giunge quest'anno alla sua terza edizione tra le novità due sezioni di concorso la prima economia e territorio la seconda comunicazione e marketing Massimo Brusa Porci il coordinatore di Bella Coppia quali sono le novità di questa terza edizione? Le novità della terza edizione di Bella Coppia sono sostanzialmente due in primo luogo Bella Coppia si distingue quest'anno in due sezioni la sezione economia e territorio e la sezione comunicazione e marketing la prima delle due sezioni è quella che conosciamo tutti Bella Coppia potremmo cominciare a chiamarla tradizionale ovvero sia il concorso per idee di imprese cooperative la sezione invece comunicazione e marketing è la vera novità i ragazzi che decideranno di concorrere a queste sezioni che fra l'altro è aperta come termini di presentazione del bando il 31 di dicembre di quest'anno la novità sta nel fatto che i ragazzi sono chiamati a produrre il logo di Bella Coppia della quarta edizione ovvero sia quella dell'anno prossimo 2006-2007 e idearsi una campagna di comunicazione pubblicitaria Come stanno andando le iscrizioni per la prima parte del concorso quindi economia e territorio? La prima sezione è già chiusa i termini di presentazione delle proposte di adesione al bando sono già chiusa e hanno quindi parteciperanno stanno partecipando dieci classi che era poi il termine limite massimo di partecipazione che per ragioni organizzative e formative avevamo dovuto appunto contingentare e quindi parteciperanno queste dieci classi che sono già ripartite e distinte in 25 gruppi di progetto per un totale stimabile di 200-250 ragazzi Quali sono i prossimi appuntamenti del progetto? I prossimi appuntamenti del progetto relativamente alla sezione economia e territorio quindi bella coppia tradizionale sono il 22 di novembre e il 24 di novembre i due seminari di apertura il primo a Cesena il secondo invece a Forlì Nell'anno nuovo invece come verranno scanditi i lavori? Nell'anno nuovo in realtà verranno scanditi fin dall'inizio cioè fin da dicembre quindi da dicembre abbiamo per ciascuna classe 20 ore di lezione sui temi dell'economia sul valore cooperativo il business plan e quant'altro servirà ai ragazzi per elaborare la propria la loro idea di impresa cooperativa I progetti ricordiamo devono essere consegnati entro quale termine? I progetti verranno consegnati sia per la sezione economia e territorio sia per la sezione comunicazione e marketing il 31 di marzo del 2006 Quando l'evento conclusivo? L'evento conclusivo si farà in aprile-maggio del 2006 Nicoletta Casadei di Efeso Forlì tra le novità di questa terza edizione di Bella Coppia anche la collaborazione con Efeso in che cosa consiste? La collaborazione di Efeso nell'ambito di questo progetto è la possibilità di realizzare una serie di interventi formativi nelle scuole della nostra provincia in collaborazione con la regione Emilia-Romagna e con l'utilizzo di un finanziamento del Fondo Sociale Europeo il tutto nell'ambito di un progetto denominato Intraprendere che vedrà coinvolta non solo la provincia di Folia e Cesena ma anche tutte le altre province dell'Emilia-Romagna le leghe provinciali sempre della nostra regione e le scuole anche di tutta la regione l'idea è quella di creare una rete delle leghe territoriali in collegamento col mondo della scuola e di dare una maggiore informazione ai ragazzi relativamente a tutto quello che riguarda il mondo del lavoro e in particolare l'etica del lavoro Annalisa Balistreri è docente all'Iris Versari di Cesena l'anno scorso avete partecipato oltretutto con un risultato molto buono e ritornate a partecipare anche quest'anno come giudicate l'esperienza di Bella Copia? Ma rispetto all'anno scorso è stato molto utile proprio per il semplice fatto che le ragazze possono vedere tutto quello che è l'iter il percorso all'interno di una cooperativa quindi noi riproponiamo questo concorso all'interno della Quarta Moda appunto proprio per poter avere gli stessi obiettivi dello scorso anno cioè quello appunto di fargli vedere tutto il percorso all'interno della cooperativa È un progetto quindi che può avere una spendibilità anche per il futuro dei ragazzi che può dare dei suggerimenti diciamo così? Ma sicuramente infatti ritiniamo proprio cioè il nostro obiettivo finale poi è quello proprio di cercargli di fargli vedere tutto questo percorso e che nel futuro possa essere utile per loro per avere delle idee per poter poi magari un giorno aprire una cooperativa perché no? C'è grande interesse e partecipazione da parte degli studenti? Ma direi di sì hanno anche delle idee piuttosto valide e diciamo adesso affrontando prima la parte teorica per poi raggiungere quella pratica diciamo che le idee iniziano a venire fuori quindi sicuramente è molto utile come concorso È un modo anche per abbinare diciamo scuola e mondo del lavoro? Sì sicuramente infatti anche il fatto che possono magari andare all'interno delle aziende a fare visite aziendali e vedere quello che succede tutti i vari step che ci sono all'interno di una cooperativa è utilissimo e quindi mondo del lavoro anche perché al giorno d'oggi appunto cercare di mettere in pratica quello che poi è la teoria che si impara all'interno della scuola è direi fondamentale Allora faccio un ultimo tentativo cerca di non essere permaloso Niente Niente Si può sapere che cos'hai? Ti ho messo la coperta Ti ho misurato la temperatura 35.000 megabyte di temperatura Non hai nient'altro Provo? Niente Ma fai un segno di qualcosa Illuminati almeno Non ce la farò mai 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 Per fortuna è arrivata Questo campanello lo cambio tutte le volte ma non migliora Vieni vieni Questa è la dottoressa del computer Cosa fa il tuo computer? Ma non so È malato Mi ha misurato anche la temperatura Guarda Per Paolo Il tuo computer non è malato Ha preso un virus Quindi è quello che gli dà la febbre Ma il virus è un programma Che distrugge i dati del tuo computer Ci sono delle cose da fare Quando si prende un virus Innanzitutto Bisogna dotarsi di un buon antivirus Poi è buona norma Fare il backup dei dati Cioè salvare i tuoi dati In un altro supporto Che può essere un dischetto Un altro hard disk E poi è importante Aggiornare regolarmente l'antivirus Aggiornare il sistema operativo Gli applicativi E poi una cosa importantissima La posta elettronica Le ricevi di mail Infatti ho ricevuto un sacco di mail oggi Poi con le feste che si avvicinano Gli allegati di posta elettronica Possono essere pericolosi Stai attento ad aprire gli allegati di posta Perché se tu non sei sicuro Chi te lo manda Può contenere un virus questo allegato Infatti ho ricevuto un alberino luminoso Sarà stato quello il virus Stai attento perché il virus Può essere anche contagioso Non contagioso fra le persone Puoi contagiare altri utenti Perciò se sei attaccato all'internet È meglio scollegare il mode O il cavo di rete Se sei attaccato a altri computer E poi avvisare magari Le persone che potresti aver infettato Della presenza del virus nel tuo computer Allora questa spremuta Non serve proprio a niente Beh se vuoi ce la possiamo bere insieme Però sei sicuro che non sia contagioso Perché non mi sento tanto bene?